Era un bel giorno di fine inverno, la news arriva proprio dal governo, Puerfedriga ne aveva abbastanza e caccio fuori un'altra ordinanza. Lungo le strade del mio reame, vedo persone muoversi a sciame, resto colpito un po' da sgomento, guarda per Dio che assembramento. Ma mi sembrava di essere chiaro, al prossimo runner giuro gli sparo, prendo il fucile e tabula rasa, se non capiscono di stare a casa. Scrivo in due righe, dammi la penna, vi chiudo i parchi con la transenna, se inizi a sentirti un barilotto, corri coglione nel tuo salotto. Ma il buon Fedriga non lo sapeva, non era il runner il solo problema, quelli che meno rispettano la legge, son proprio i vecchietti che escono in greggia. E mentre Fedriga con grande premura, di tutti i parchi decreta chiusura, crede di averla risolta, stavolta c'è sempre qualcuno che non l'ascolta. Cammino all'eggiadro in un campo di grano, si chiama Tony ed è un vecchio frulano, lo vede in me, ne rimane basito, gli corre incontro puntandogli il dito. Ma tu la vato puo' archiastron, no a tu chiasu'ne televisione, lo han ripetut su ogni canal, no si va torping a nadà. Ma Tony si frega della quarantena, e intanto a meni si chiude la vena, prende il fucile con gli occhi di ghiaccio, senza pensarci gli spara un braccio. Cazzo è il buon Tony e in un momento fece veloce il ragionamento per farsi un giro con quest'ordinanza, poteva farlo solo in ambulanza. Grazie a tutti.